Ciao, sono Luca Toni e anche io uso Diamond Card. Il fenomeno Diamond Card non poteva non coinvolgere il goliador Luca Toni e la rivelazione rosa-nero Christian Terlizzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Il pensiero nostro per ricordare questo pomeriggio e per ringraziarti di essere venuti da noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao, sono Luca Toni e anche io uso Diamond Card. Io sono Christian Terlizzi e anche io uso Diamond Card. Grazie. 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 Grazie.